Da quel 29 giugno la ferrovia l'ho cancellata, mi sembra di non aver mai fatto il macchinista. Roberto Fochesato è uno dei due macchinisti del treno che deragliò la sera della strage di Biareggio e che ha testimoniato oggi al processo. Ho sentito l'esplosione, ha detto, ero già al riparo alla Croce Verde. È arrivata una fiamma tipo gas, azzurrina, davanti a me c'era una donna, le bruciava la testa. Prima di scendere dal treno, affacciandomi al finestrino, ho visto una nuvola di gas, una parete bianca, ha detto, quindi ho capito di dove scappare. Da quell'incidente non ha riportato lesioni fisiche, ma di testa sì, sto ancora male, ha aggiunto. Dopo ha testimoniato il dirigente movimento della stazione di Biareggio, Carmine Maglianico. Dopo il deragliamento del carro merci, ho fermato l'arrivo di un intercity, chiudendo il segnale di ingresso esterno fuori da Biareggio Scalo, ha ricordato. È stato un miracolo. Se lo scoppio fosse avvenuto due minuti più tardi, i due treni potevano entrare in contatto, perché l'intercity si sarebbe fermato proprio dove stava avvenendo lo scoppio. Maglianico ha anche ricordato che dopo la strage di Biareggio, la velocità di transito in stazione dei treni che trasportano merci pericolose venne ridotta a 50 km orari. Prima era di 100. Presenti come sempre al Polofiere di Lucca, i familiari delle vittime, che hanno anche affisso all'esterno dell'aula, delle sagome di cartone a forma di bara, per ricordare gli operai delle ferrovie morti in servizio.